L'ora è scoccata e su Canale 5 ritorna la Champions League. La sfida ha un destino che non si può cambiare. Entrare negli annali del calcio nerazzurro come lo scontro più emozionante della stagione. Dal mitico Old Trafford di Manchester, Manchester United-Inter. Gara di andata dai quarti di finale di Champions League. Domani alle 20.30 su Canale 5. Un appuntamento? Ford Fiesta. Continental. 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 Grazie a tutti